Amici videogiocatori, questo è un momento assolutamente da non perdere. Sì, perché nel nostro gioco della settimana vogliamo mettere al centro dell'attenzione la nuova console di casa Sony, vale a dire PlayStation 4, pensata appositamente per noi gamer dagli sviluppatori, in grado così di creare nuovi giochi ancora più performanti e incredibili. E a proposito di nuovi titoli, Simon, c'è già qualche gioco per PlayStation 4 che vale la pena scoprire? Assolutamente sì, pensiamo a Killzone Shadow Fall oppure al fantastico Knack. Ovviamente arriveranno giochi come Drive Club o Infamous 2 Seconds Zone, ovviamente più avanti. Ci sono i titoli cross-gen come Battlefield 4, Assassin's Creed 4 e Call of Beauty Ghost. Cosa rende PlayStation 4 una vera console next-gen? Chiaramente la potenza, infatti è la console più performante sul mercato, grazie al processore a 64 bit, 8 giga di RAM GDDR5, 500 giga di hard disk, insomma un vero mostro di potenza. Poi c'è anche il nuovo DualShock 4, ancora più ergonomico e con il touchpad frontale. Infine funzioni veramente interessanti come il Remote Play da PlayStation 4. Allora possiamo veramente dire che con Sony e PlayStation 4 entriamo nella next-gen? Vediamoci la nostra video recensione. PlayStation 4 è finalmente fra noi. Con la quarta generazione dell'hardware Sony, prende quindi il via una nuova lotta digitale per l'accaparamento dei salotti di tutti gli appassionati. Come più volte confermato, il colosso giapponese non si è presentato impreparato all'appuntamento, confezionando una macchina incredibilmente potente, versatile e di facile utilizzo da parte degli sviluppatori. Una piattaforma che ha nel DNA la creazione dei giochi più sofisticati, grazie ad un hardware all'avanguardia e alla tecnologia AMD, CPU a 8 core, 8 gigabyte di RAM GDDR5, hard disk da 500 gigabyte e l'immancabile lettore Blu-ray. Un apparato tecnico che consente fin da subito di poter godere di giochi ricchi di effetti speciali nello splendore del Full HD a 1080p. Grande attenzione anche al nuovo Dual Shock 4, perfezionato nell'ergonomia e nella sensibilità dei controlli, che presenta inoltre touchpad frontale e tasto share per poter condividere, via web, video e foto delle proprie sessioni di gioco. Non manca ovviamente la diretta evoluzione di PlayStation Eye, ora PlayStation Camera, capace anche di registrare video a 720p. Anche sui servizi PlayStation 4 si dimostra incontenibile, tutta la comoda flessibilità di PlayStation Store e l'eccellente PlayStation Plus, oppure la funzione di Remote Play su PlayStation Vita, per vivere tutta l'esperienza di PlayStation 4 sul fantastico schermo OLED della console portatile Sony. Anche la line-up corrisponde alle aspettative. Oltre ai titoli cross-gen e multipiattaforma, ci sono pesi massimi come Keyzone Shadow Fall o il brillante Neck, mentre nei prossimi mesi saranno disponibili Drive Club e Infamous Second Son, per un divertimento davvero degno della next-gen. Grazie a tutti per aver guardato il video, grazie a tutti per aver guardato il video